Tu sei una magia, tu sei una magia, tu sei una magia, tu sei una magia, ah in farmacia ci sono andato a giocare, pensavo che mi aveste visto in farmacia, magari, magari. Non mi voleva dare una medicina perché non avevo la ricetta, però il mio medico è all'estero, in questo momento, mi ha detto ma dai che te la danno, questa qua non me la voleva dare. Le ando io alla medicina! La danno, però, faccio le carte, tra me la farmacista, che ha vinto? Tu! La farmacista, per queste cose e soldi, è per quello che ha vinto, va bene? Grazie a voi! Grazie a voi!